E' cominciato lo stato di agitazione di Apeal, una società partecipata della provincia di Potenza che si occupa del controllo delle caldaie. Ma è uno stato di agitazione che affonda le radici in una problematica abbastanza storica? Sì, allora esattamente un anno fa eravamo sotto la provincia di Potenza a chiedere di ricominciare con le nostre attività. L'operazione caldaia sicura ad esempio, erano 6.000 le verifiche che facevamo ogni anno, non 500 come qualcuno ha detto qualche tempo fa. Facevamo anche altre cose, gestivamo circa 100 procedimenti di autorizzazione unica ambientale all'anno, in particolare i stabilimenti industriali più complessi. Facevamo da supporto alla progettazione di rendicondazione europea. Il Ministero delle Comunità e delle Finanze aveva individuato una serie di irregolarità nella gestione dell'Apea. Ma il Ministero aveva anche precisato in una comunicazione a novembre del 2023 che le irregolarità valevano per il periodo pregresso. Si auspicava che la provincia potesse ricostruire un sistema corretto di gestione dell'Agenzia Apea, così come si fa in tutta Italia per almeno 7.000 aziende partecipate. Questa cosa la provincia non l'ha fatta, quindi noi dopo un anno e mezzo non lavoriamo più. Questo atteggiamento che ritengo di ignavia e di irresponsabilità ha distrutto inesorabilmente l'Apea, la vita dei dipendenti, ma ha anche danneggiato centinaia di aziende che usufruivano del nostro lavoro, delle nostre attività. Segretario, ma c'è un percorso avviato alla Regione per in qualche modo salvare Apea? Sì, c'è una vertenza che è lì al Dipartimento di Attività Produttiva. Noi prima delle elezioni regionali avevamo individuato un percorso con l'allora Assessore Casino e con i tecnici che si stavano occupando di questa vicenda, perché la nostra idea è che Apea si salva e soprattutto gli operai e gli impiegati si salvano se questa attività la riprende in carico la Regione e la affida ad una società interamente partecipata. Così facendo tutta questa attività può essere fatta da questa partecipata e salviamo un patrimonio importante legato alle competenze del personale e li mettiamo in sicurezza, perché l'elemento che ha in qualche modo scardinato questa società è che c'è stato un controllo da parte del Ministero che ha rilevato che Apea, non avendo un bilancio che superasse il milione di euro, per una norma che prevede la razionalizzazione, la chiusura di questi endi se non superano il milione di euro, quindi praticamente vanno chiuse queste aziende. Pertanto l'unica soluzione è quella che questa attività la riprende la Regione, viene affidata a una sua partecipata al 100% e così risolviamo questo problema del superamento del milione di euro di fatturato. Ma qual è il futuro di Apea? Apea che rischia di essere smantellata completamente. Certo, noi siamo molto preoccupati, tant'è che oggi, vista la dichiarazione dell'amministratrice di chiudere da ieri l'Apea perché non ha un servizio e l'ha dimostrato alla provincia perché non dando dei servizi, noi ci aspettavamo nella riunione di ieri dei servizi che la provincia doveva dare per l'8 luglio e quindi di riprendere le attività per l'Apea, invece noi ci vediamo chiusi almeno per una settimana l'agenzia. Quindi i lavoratori adesso sono in presidio permanente e si aspettano che il presidente della provincia si metta in campo per ridare all'Apea quei servizi che hanno promesso, perché come diceva prima il segretario se non arrivano questi servizi noi non possiamo gestire il passaggio promesso a marzo dall'assessore regionale in altre agenzie regionali. Quindi questo è il primo passaggio, quindi ridare i servizi ad Apea in modo da poter traghettare questi lavoratori dalla provincia alla regione. La regione nella fattispecie APBAS dovrebbe essere? La strada dovrebbe essere questa perché noi non vediamo altre alternative, perché se non si riesce a raggiungere quel milione di euro e non ci sono altri servizi da dare ad Apea, l'Apea è destinata a chiudere. Segretario, quindi l'unica soluzione mi pare di capire è quella di affidarci a ciò che deciderà la regione, il governo regionale per magari confluire in APBAS? Sì, assolutamente sì, è un modo per dare una speranza alla continuità lavorativa di tutto il personale di Apea anche perché nonostante le rassicurazioni che abbiamo ricevuto nei mesi precedenti sia dalla regione che dalla provincia sono stati solamente pubblicati atti che hanno il solo scopo di depotenziare le attività che materialmente svolgono i lavoratori di Apea. Nonostante un incontro che si è tenuto nei giorni precedenti con l'amministratrice ci aveva assicurato che era piena volontà da parte della provincia di riassegnare le attività ad Apea Potenza che avrebbe permesso naturalmente ai lavoratori di ripartire con le attività potendogli permettere di sviluppare tutte le loro attività, iniziative, lavorative ai vari progetti per le competenze che loro hanno. Il precedente amministratore era già di missionario, quindi soltanto soggetto all'attività ordinaria di amministrazione. È stato fatto un bando per l'individuazione di un altro amministratore. Questo bando ha assortito come effetto la nomina di un amministratore che dopo aver verificato, interloquito non con la struttura aziendale, diciamo molto poco, ma con i vertici della provincia ha ritenuto opportuno che non ci fossero le condizioni per poter accettare l'incarico. Noi come dipendenti cosa viviamo? Viviamo questa situazione di impasse. E' chiaro che poi dopo la dimissione o meglio la non accettazione dell'incarico da parte del secondo incaricato cosa è successo? E' successo un periodo di vacazio che ha portato alla individuazione di una nuova amministratrice nuova amministratrice che è stata nominata a metà di aprile. Ha dovuto svolgere una serie di attività preliminari di conoscenza della situazione che ovviamente ha determinato un quadro particolarmente grande.